Ben trovati a questo nostro appuntamento, concludiamo la settimana con fatti e commenti, la nostra rassegna quotidiana online, commentiamo i fatti principali di giornata con gli ospiti che sono con noi, saluto questa sera il sindaco di Sant'Elpidammare, Alessio Pignotti, benvenuto. Ciao, buonasera e grazie mille dell'invito. Allora iniziamo subito a guardare i siti per capire che cosa è successo oggi, 16 febbraio, utvrs.it è il nostro portale online, ampio spazio alla cronaca, chiamo la polizia per benotti interventi inesistenti, denunciato, poi di spalla altre notizie che riguardano appunto quanto è accaduto oggi nella nostra regione con qualche incidente sulle strade provocato anche dalla nebbia che sta imperversando in alcune zone da questa mattina. Per quanto riguarda questa notizia di questo personaggio che ha chiamato la polizia denunciando degli interventi che però erano inesistenti, i poliziotti hanno denunciato un uomo italiano di 46 anni gravato da diversi precedenti per reati contro la persona e contro il patrimonio. è successo ad Ancona, la sala operativa della Questura, sulla linea del 112 arrivavano insomma numerose richieste di intervento, di aiuto, di denuncia di fatti che poi venivano puntualmente controllati e risultavano inesistenti. Alla fine e neanche dopo troppo tempo la polizia ha capito che si trattava di un uomo che è stato poi denunciato. Ci sono appunto altre notizie di cronaca, in primo piano ampio spazio allo sport e qui il venerdì di solito ci sono informazioni che riguardano i match che si giocheranno per quanto riguarda il calcio soprattutto nel weekend sportivo. Diamo notizia del nuovo presidente guida, non è un gioco di parola, al timone del Fano. Stipendio ai calciatori, prima della partita ci dobbiamo salvare. Questa è insomma la dichiarazione di Salvatore Guida, nuovo proprietario e presidente dell'Alma Juventus Fano, squadra che milita in Serie D e che è impelagata con la questione salvezza. E poi un'altra notizia riguarda la decisione di trasmettere in streaming Fossombrone Samba. Andiamo a leggere insieme, il link è a pagamento, domani la Forse Impronese comunicherà tutte le info del caso pienone allo stadio e questo riguarda sempre la partita di Serie D che era in programma domenica, no che è in programma domenica, verrà trasmessa in diretta streaming e questo per quanto riguarda il calcio. Altre notizie di cronaca, diamo conto di questa fiera del turismo che si sta tenendo a Monaco. Le marche reduci dal successo alla bit adesso strizzano, i turisti europei e tedeschi strizzano l'occhio alle marche. C'è uno stand dedicato alla nostra regione che appunto solca anche questo palcoscenico internazionale a Monaco. Siamo Monaco di Baviera, siamo in Germania appunta sull'autenticità si racconta in questo nostro articolo. Allora, iniziamo anche a sollecitare il nostro ospite, il sindaco di Sant'Elpidio a Mare, partendo da qualche buona notizia perché ci piace darla. In tema infrastrutture c'è un'importante riapertura, la facciamo annunciare proprio al sindaco Pignotti. Sì, ero arrivato proprio da qualche minuto e abbiamo annunciato la riapertura del ponte di Casette d'Ete. Sappiamo tutti questa infrastruttura in cui nel passato si è consumata una grave tragedia per la nostra popolazione e quindi è un tema molto sentito da parte dei residenti e di tutti gli elpidienzi. Abbiamo riaperto il ponte con alcune settimane d'anticipo rispetto a quello che era il cronoprogramma da parte del Genio Civile, quindi il ringraziamento naturalmente va al Genio Civile, alla ditta e a tutti quelli che si sono profusi in tutto ciò. Soprattutto io ci tengo a ringraziare il mio corpo di polizia locale perché potete ben immaginare quali sono stati i disagi conseguenti alla chiusura di un ponte che comunque è di collegamento sia per la frazione di Casette ma soprattutto per la zona industriale Brancadorio. Siamo riusciti in questo risultato, ci sarà un'ulteriore chiusura nel mese di giugno perché poi andremo volgarmente ad appoggiare il nuovo ponte su quella che sarà la nuova struttura. Ad oggi abbiamo fatto i pozzi di fondamenta e quindi è una bellissima notizia penso per i residenti ma anche per tutto l'indotto perché è evidente tra fornitori e anche residenti in altri comuni limitrofi il disagio in questi giorni che noi abbiamo cercato naturalmente di limitare il più possibile c'è stato. Sindaco sempre in prima linea, lei è stato eletto nel 2022, quindi siamo il primo anno, è andato guardando anche a quello che è successo in termini di governo locale e parlo di arrivi di finanziamenti, di insomma elezioni di comuni vicini a Sant'Elpino a Mare dalla sua elezione che percorso è stato fatto con lei? Beh è stato fatto sicuramente un percorso di crescita anche sulla scia di quella che era quello che era il lavoro lasciato dalla precedente amministrazione, ricordo che naturalmente è un'amministrazione di cui facevo parte, in cui svolgevo il ruolo di assessore quindi abbiamo proseguito su quelle che erano le linee già dettate, avevamo delle risorse molto molto importanti pervenute tramite il PNRR ed ora naturalmente dico io non è facile prendere queste risorse sicuramente però è evidente che il compito più difficile è quello di rispettare i termini che impongono questi tipi di risorse quindi siamo andati giusti con i tempi, abbiamo consegnato i lavori, abbiamo un centro storico che dico sempre è un po' in questa fase, un cantiere un po' a cielo aperto però siamo partiti con la rigenerazione urbana del centro storico È un salotto in ristrutturazione Un salotto in ristrutturazione, dico sempre che sicuramente ci sono dei disagi ma sicuramente questi disagi saranno ripagati da quello che vedremo tra qualche mese o anno perché naturalmente poi ci sono cantieri più lunghi e cantieri più corti però abbiamo la rigenerazione urbana di 6-7 immobili in centro storico abbiamo la ristrutturazione di un palazzo storico, il palazzo Gerardini sempre attraverso altri fondi PNRR per il co-housing abbiamo la realizzazione di un nuovo asilo unito sempre in prossimità al centro storico abbiamo un'opera importantissima da 12 milioni di euro che è la nuova scuola e il nuovo polo Bacci quindi la scuola elementare e media del capoluogo siamo riusciti e questa magari la sento più mia ad ottenere attraverso la partecipazione a un bando ministeriale l'adeguamento sismico della scuola Cascinare così come dei fondi per la sistemazione del ponte Squadroni a Bivio Cascinare che è molto legato alla questione bretella famosa da Civitanova a Sant'Elpito a Mare quindi abbiamo tutta una serie di opere in cantiere ed è evidente che l'obiettivo ora che siamo riusciti a rispettare tutti i termini di consegna di lavori è proseguire spediti verso il risultato perché naturalmente Sant'Elpito a Mare merita un salotto merita un contenitore, una cornice di questo tipo io proprio penso alla BIT la settimana scorsa in un'intervista dicevo proprio questo naturalmente da Elpidiense vivevo, vivo Sant'Elpito a Mare ma è evidente che da sindaco uno l'avete con un occhio diverso la vive più quotidianamente va a scoprire quegli scorci, quegli angoli che magari ai più sono ignoti quindi l'obiettivo è quello di valorizzare questi punti ogni giorno per me sinceramente c'è sempre una novità in più e c'è sempre una volontà di andare ripeto a dare rilievo a quello che è il nostro territorio sindaco siamo sicuramente la regione l'Italia è già la nazione dei campanili e dei comuni le marche lo sono ancora un pochettino di più per la diversità, per ragioni storiche lo sappiamo però io l'ho sentita spesso parlare certamente della sua città, delle sue bellezze delle sue unicità ma in un contesto più ampio insomma non bisogna temere le aperture le collaborazioni, lo stare insieme assolutamente no perché credo che naturalmente soprattutto sul tema turistico sul tema culturale è evidente che il gioco di squadra è quello che fa alla forza l'ho sempre sostenuto quando si parla di unione di comuni eccetera eccetera ho sempre detto che magari da un punto di vista formale ci possano essere delle difficoltà è evidente che poi ci deve essere un accordo da parte delle amministrazioni in oggetto però è evidente che sul fronte dei servizi i comuni possono agire insieme noi abbiamo un bellissimo esempio sul sociale con il nostro ambito 20 che è un ambito piccolino però che ci permette di essere più a contatto con i problemi reali delle persone di gestire meglio anche le risorse di gestire meglio le risorse le situazioni calibrarle rispetto alle esigenze assolutamente sì emergenze e io ho detto sempre l'abbiamo anche condiviso in alcuni incontri soprattutto con Porto San Deppino ma ripeto parte del nostro territorio soprattutto la valata del Chiantian che è molto vicina a Civitanova Marche quindi ho sempre condiviso con questi sindaci la possibilità soprattutto sul tema culturale sul tema sportivo sul tema turistico di andare a condividere diciamo così quelle che sono le nostre realtà quelle che sono i nostri cartelloni faccio le semestre umane di stagione estiva o stagione infernale per non far sovrapporre gli eventi ma soprattutto per presentare quelli che sono i nostri contenuti in maniera condivisa perché naturalmente tutto ciò acquisisce una forza maggiore lo fa da esempio parteciperemo ad aprire al progetto 10 comuni a Nizza saremo noi Porto San Giorgio e Sevigliano è evidente che quando abbiamo parlato di un'offerta turistica ci hanno fatto presente sì di enfatizzare quelle che sono le realtà partecipanti ma è evidente che vanno enfatizzate anche tutto l'indotto del comprensorio perché naturalmente chi sceglie di venire a Sant'Epidio a Mare in realtà in primis sceglie di venire a visitare il Fermano sceglie di venire a visitare tutto tutto diciamo così l'indotto vicino l'importante dico sempre io è che non vi siano trainanti e trainati nel senso che siamo tutti un gruppo perché a volte c'è sempre chi magari la fa un po' da padrone e vuole fare l'elemento trainante lasciando un po' in disparte il trenato e secondo me Sant'Epidio a Mare in virtù anche di quello che dicevamo prima dei cantieri di tutte queste opere di miglioria che stiamo facendo ha un patrimonio storico culturale che può essere invidiato dai più e quindi l'obiettivo è di passare al ruolo di trainanti sotto questo punto di vista sa che abbiamo iniziato questo 2024 con alcune notizie che soprattutto nel suo territorio ci suggestionavano sull'ipotesi di fusione prima quella tra Porto San Giorgio e Fermo e poi anche Porto Sant'Epidio e Sant'Epidio a Mare ci dicono che ogni tanto ritorna questo questo argomento trovando i più insomma scettici non dico proprio contrari per regioni di campanilismo ma con qualche perplessità e mi sembra che anche tra voi sindaci insomma è un argomento che viene affrontato con la giusta importanza sì assolutamente sì ripeto io ne ho parlato con i miei colleghi penso che la condivisione dei servizi magari parlo anche magari di sicurezza sul territorio di altre situazioni sia diciamo così la strada da intraprendere poi faccio la battuta ma Forza Sant'Epidio l'anno scorso ha festeggiato l'indipendenza da Sant'Epidio a Mare quindi ecco capiamo anche che la volontà delle persone il comune giovanissimo il più giovane delle marche va rispettata però nel senso è evidente che secondo me la strada è quella di arrivare a una condivisione di percorsi perché sempre sia in campo amministrativo politico ma penso in tutti i settori della vita la condivisione è la strada migliore per arrivare ai risultati è un elemento in più le chiedo anche da amministratore come legge questa notizia che stiamo commentando proprio con i sindaci che è arrivata qualche settimana fa da parte del governo di andare al terzo mandato per i comuni sotto i 15 mila abitanti addirittura senza vincoli di mandato per quelli molto molto piccoli e è in atto una discussione su quelli più grandi con un partito la Lega che intende portare a questa abolizione del numero dei mandati anche nei comuni più grandi Sant'Elpidio a Mare 17 mila abitanti quindi quando si vota c'è un primo e un droppio turno lei lo sa perché ha dovuto soffrire fino all'ultimo vincendo poi tra l'altro con un ampio margine però insomma se l'è dovuto guadagnare questo questo obiettivo in generale come vede questa legge? Beh qui naturalmente quello che posso dire è un mio esprimo quello che è un mio pensiero personale magari dobbiamo prendere in considerazione due piani secondo me il piano della competenza e dall'altro lato il piano della vocazione che uno ha secondo me nell'affrontare questo tipo di ruolo la vocazione barra determinazione che è la conseguenza quindi sotto un punto di vista della competenza secondo me alla fine se una persona è un po' come nella vita che un imprenditore se una persona è brillante se una persona lavora bene secondo me è giusto dare la possibilità di andare avanti dall'altro lato però lo vedo anche io nel senso questo è un ruolo fatto di stimoli è un ruolo fatto sicuramente di tante diciamo così di tante vicissitudini ogni giorno è sempre diverso quindi è evidente che dopo tanto tempo che uno svolge questo ruolo ci potrebbe essere diciamo così la perdita di stimolo ad affrontare con la stessa grinta determinazione questo tipo di avventura quindi è difficile dire se sinceramente se è una scelta corretta o meno quello di ampliare il mandato io dico che secondo me delle due è evidente che chi si ripone e si rimette in gioco sicuramente avrà la stessa grinta la determinazione per farlo e se la persona è competente magari è giusto dare quest'ulteriore possibilità io questa domanda non me la pongo perché sono sopra ai 15.000 abitanti sono diciamo all'inizio del mandato quindi sicuramente quell'aspetto del secondo piano di grinta determinazione vocazione non mancano perché se no non avrei mai affrontato questo tipo di questo tipo di percorso però ecco dico io se c'è il giusto stimolo la giusta squadra la giusta determinazione la voglia di far bene perché no dare possibilità a qualcuno di ripetersi l'importante ecco che poi alla fine però non diventi una cosa diciamo così abituale perché giusto pure la politica la democrazia è fatta anche di ricambio e di certo di proteggere la persona a capire quando è finito un percorso certo tra l'altro avremo le votazioni europee e politiche in alcuni comuni delle Marche in provincia di Fermo non sono tantissimi nella vostra zona c'è Monte Urano che è un comune che appunto dovrà scegliere il prossimo sindaco tra l'altro su questo argomento si è detto che per esempio nei piccoli comuni a volte si fa fatica anche a trovare il candidato quindi c'era stata questa necessità di andare incontro ad un'esigenza che vede il ruolo del sindaco anche sempre più complesso sempre più totalizzante con tante responsabilità e quindi forse va ripensato anche proprio questo più in generale il ruolo del sindaco assolutamente sì io posso dire che naturalmente anche per me è un ruolo pieno di responsabilità ma mi rendo conto che soprattutto nei comuni più piccoli il sindaco diventa un fotodum diventa un soggetto che deve seguire tutto quanto in prima stanza con maggiori responsabilità e se pensiamo scusa se ti interrompo ma se pensiamo a volte a che cosa è messo di fronte anche un sindaco di un piccolo comune come le tragedie come le alluvioni piuttosto che il terremoto insomma si capisce che diventa davvero molto difficile enorme come problema assolutamente parlavi adesso di emergenza è evidente che un comune più grande faccio l'esempio del mio posso appoggiare a quella che è una protezione civile fatta di numerosi volontari un corpo di polizia locale ben dotato quindi tra virgolette nell'emergenza la tranquillità non c'è mai però posso dire di essere supportato alla grande io posso immaginare perché poi la calamità colpisce tutti allo stesso modo e quindi è evidente che in un comune piccolo non so non mi vorrei mettere nei panni di un sindaco di un comune piccolo perché ecco con le responsabilità con le ulteriori responsabilità con le decisioni da prendere è stato il testimone di tutto ciò quindi questi piccoli sindaci che erano sempre sulla imbarricata esatto era evidente che lo si leggeva negli occhi quando davano le loro dichiarazioni assolutamente sindaco siamo vicini alla pausa della prima parte ma ci sono altre domande altre questioni da affrontare insieme economiche culturali quindi vado a leggere velocemente i lanci di ANSA ovviamente la pagina regionale con l'apertura dedicata al cambiamento climatico potremmo dire nell'appennino umbro marchigiano un inverno senza neve questa è l'apertura possiamo leggere insieme e a quota 1400 metri il termometro segna 11 gradi qui siamo ad un racconto che propone ANSA e sono temperature più da spiaggia che da essendo a febbraio che da 1400 metri e quindi si fa un bilancio di questa situazione difficile soprattutto per le stazioni sciistiche dove non si scia e qui parliamo dell'appennino marchigiano umbro marchigiano ancora un inverno senza neve l'aeroporto di Ancona raddoppia collegamenti con Monaco di Baviera allora se raccontiamo sempre delle difficoltà dell'aeroporto Sanzio di Ancona soprattutto con la sua compagnia l'AeroItalia quella che ha vinto il bando per i voli di continuità oggi possiamo dare questa buona notizia perché Lufthansa decide di investire sull'aeroporto raddoppiando le frequenze giornaliere a partire dal prossimo 31 marzo questo questo è il lancio di Anza di qualche minuto fa e quindi si può dire che per andare almeno a Monaco di Baviera si può contare su un buon collegamento all'aeroporto di Falconara ovviamente Monaco diventa anche aeroporto internazionale per raggiungere altre mete e destinazioni ancora la cronaca diamo anche un'altra notizia prima di andare in pausa giornata del Braille biblioteca di Pesaro espone libri tattili questa è una notizia che ha a che fare con la giornata nazionale del Braille 21 febbraio con la biblioteca di quartiere di Baglia Flaminia a Pesaro intitolata l'inventore del sistema di lettura e scrittura tattile a rilievo per non vedenti espone da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio la sua collezione libri tattili pensati per bambini ciechi o poi vedenti 3-6 anni e poi ci sono le particolarità del caso Pesaro lo ricordiamo capitale italiana della cultura 20-24 e dunque sono tanti gli eventi che si susseguono e le cose da fare e da scoprire in città e nel comprensorio io mi fermo qui per qualche minuto restate con noi perché c'è tutta la seconda parte di fatti e commenti ancora con il nostro ospite del sindaco di Sant'Elpito Ammari state con noi